Ciao amici da Frank Bianconero, facciamo questo piccolo commento a questa grande partita della Fiorentina perché la Juve non so nemmeno se si sono ressi conto che erano in campo perché è impressionante come dico oggi sembrava anche peggio delle peggiori partite di Allegri e alla fine Allegri vinceva, oggi ha rischiato un paio di volte verso la fine per Allegri le partite vinceva e non subiva 15 tiri oltre che io sempre rispetto per Allegri ammirazione perché i risultati parlano sempre per lui e come le chiama lui le partite sporche vanno vinte perciò se la Juve avesse vinta anche questa era l'indicibile perché era improbabile oggi tutti tutti senza voglia senza correre eppure era caldo anche per gli altri perché ora non cominciano a scrivere i grossi intellettuali di calcio che c'era troppo caldo sì 30 gradi sono tanti a settembre è vero che la Juve c'ha più nazionali che si sono allenati meno però il caldo era da tutte e due le parti poi la Fiorentina per 90 minuti ha tenuto il campo in corsa di corsa la Juve è zero la Juve è salvo dell'ICT che ha sbagliato soltanto un appoggio asceso nel primo tempo e poi basta tutte ottime chiusure e furbamente il secondo tempo con il vento a sfavore di solito rinviava perché quando il vento ho a favore o contro le traiettorie della palla sono sempre non facili da leggere e savo il solito che dire che viene sempre criticato ma è l'unico che prova a fare sempre qualcosa sia come impostazione che a buttarsi dentro in zona d'attacco io aspetto ancora chi mi critica su Bernardeschi aspetto ancora che qualcuno mi dica che giocatore è Bernardeschi e mi faccio solo una domanda riferita a Sarri che anche lui lo fa giocare a destra fa ogni volta che prende palla o sbaglia il controllo o fa 7-8 passi indietro per venire col sinistro e fare un passaggio orizzontale o il cambio gioco orizzontale io dopo Douglas Costa che a me si è fortunato e penso che per un paio di settimane o a meno che addirittura fino alla sosta perché lui è sempre come si dice soggetto a questi infortuni soprattutto per il tipo di giocatore che è nello scatto, nella rapidità avrei messo quadrato subito lo stesso ruolo di Douglas Costa che è uno che può mettere in difficoltà i difensori o addirittura Di Bala che ovviamente a me non piace però tra Bernardeschi e Di Bala io preferisco sempre Di Bala la Fiorentina ha sbagliato a non vincere però non si può lamentare ovviamente non è nato come Fabri come se non ci fosse un domani l'arbitro era Irrati di Firenze casomai qualcuno ora siccome di Firenze e non di Torino magari qualcuno sarebbe dimenticato Irrati di Firenze hanno menato come Fabri hanno menato come Fabri per loro com'è giusto che sia e poi Montella non rompere le palle che hai più esonerito in due anni che Zeman in 15 anni in 20 anni di carriera ti arrabbi solo in una partita e poi prendi 4 gol a partita questo è il mio commento iscrivetevi al canale fino alla fine Forza Juve stasera diciamo Forza Napoli Forza Inter e il mio pronostico è già andato a puttana iscrivetevi al canale ciao da Frank Bianconero grazie a tutti